Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andremo a vedere un interattivo per il lavoro per il mese di agosto, per chi lavora, chiaramente. Abbiamo tre scelte, la prima scelta è un braccialetto di opalite, adesso ve lo tiro su, che ha questi riflessi un po' azzurrini e l'opalite aiuta la guarigione e combatte la stanchezza. La seconda scelta è quello di sodalite, blu, e la sodalite lenisce le infiammazioni, va bene per l'asma e per la linfa. Tenete presente che è una pietra blu, quindi tutto quello che è collegato al quinto chakra. E poi l'ultimo braccialetto è di diasporo rosso, guardate che belle sfumature che ha, e è adatto per il sistema immunitario e endocrino. Bene ragazzi, scelta 1, scelta 2, scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute le persone che hanno scelto l'opalite, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per il mese di agosto per le persone che lavorano, che comunque diciamo hanno affari in ballo. Vi ricordo ragazzi che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto, se non risuona nulla potete ascoltare una delle altre due varianti. E comunque potete sempre integrare la lettura con quelle mensili. Vi ricordo che in questo periodo non ho whatsapp, quindi se mi volete contattare per chi avesse già il numero di telefono, va benissimo un sms normale. Per chi non avesse il numero, mi potete contattare a questo indrizzo email. Lo trovate comunque anche nella descrizione del video. Andiamo a vedere per la prima scelta che movimenti ci saranno per agosto. 10 di spade al contrario, cavaliere di bastoni al contrario, abbiamo un 8 di bastoni al contrario e la carta del carro, ragazzi. Guardate qui come la sensazione che siate in attesa, che siate in attesa di qualche risposta, che siate in attesa di qualche movimento. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con il 10 di spade. 4 di bastoni al contrario e sacerdotessa. Allora ragazzi, qui con i 10 di spade al contrario può essere che ci sia qualche ciclo, qualche questione, che ancora non riuscite a chiudere o che non va. Potrebbe anche essere un contratto dove, per esempio, non riuscite ad accordarvi e non si riesce a concludere. Questo ve lo dico perché c'è anche un 4 di bastoni al contrario, che è proprio la carta che parla della, in realtà in questo caso della scissione dei contratti. È come se ci fosse una certa instabilità nella prima parte del mese a livello lavorativo. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 3 di bastoni e un fante di spade al contrario. Può essere, ragazzi, potrebbe esserci una sorta di o impazienza da parte vostra o troppo a fretta da parte vostra per raggiungere qualche obiettivo, qualche comunicazione, qualche traguardo, qualche... vi dirò, ci potrebbe essere comunque un... come la sensazione che qualcuno rimanderà un viaggio di un paio di settimane, infatti poi qui lo vediamo. O uno spostamento, o un progetto. Non necessariamente deve essere un viaggio. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Due di bastoni. Due di bastoni, amanti, il cavaliere di coppa al contrario. Due e tre di bastoni, ragazzi. Io ho la sensazione che verso la fine di agosto, verso la fine del mese, diciamo così, considerato che l'otto di bastoni è il contrario, parla di una non comunicazione, o di una comunicazione comunque difficile. Qui o può essere che qualcuno vi faccia aspettare... cioè, ve l'ho detto, ho come la sensazione che ad agosto sarete un po' in attesa. Probabilmente cercherete di distrarvi, può essere con qualche viaggio, però a livello lavorativo non vi sento proprio spinti in avanti. E alla fine del mese con questa carta degli amanti è come se ci fosse una scelta. Ma vi dico questo perché c'è anche la carta del carro dopo. Quindi è come se ci fosse una scelta per amor proprio qui con la carta degli amanti. Proprio perché probabilmente vedete che le cose non vanno come vi aspettate, o probabilmente siete anche, come vi posso dire, un po' stanchi di questa situazione. Vorreste definire qualche cosa di più, di meglio? Vorreste andare avanti? Andiamo a vedere il carro perché alla fine andate avanti. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Appeso al contrario. Ragazzi, entro la fine del mese qualcosa si sblocca, questo ve lo posso dire. E ho come la sensazione che siate voi, perché con la carta degli amanti è il vostro amor proprio. Siete voi a fare la scelta tra il vecchio e il nuovo. 10 di spade al contrario e 6 di spade al contrario. Ragazzi, io proprio qui ho la sensazione che vi dicano, dai una direzione tu a questa situazione. lavorativa, piuttosto che questa situazione finanziaria. E' un po' come se vi dicessero, non preoccuparti. Allora ragazzi, se siete in fase di cambio, perché per molti lo sento così, sento la rottura di un contratto e una nuova strada che potenzialmente si sblocca, si apre. Quindi per molti potrebbe essere un cambio. Tenete presente che quando c'è il carro, e visto che anche qui avevate il 3 di bastoni, ci potrebbe anche proprio essere o un lavoro legato ai viaggi, cioè dove si viaggia, o uno spostamento per lavoro, quindi anche proprio un trasferimento. C'è comunque una scelta, un prendere in mano le redini della propria vita. C'è qualcosa che si sblocca da settembre in poi. Tenete presente che comunque da settembre, più o meno, inizia poi la produzione per Natale. Quindi normalmente in quei 3-4 mesi si riesce a trovare lavoro un po' più facilmente. Se invece avete già un'azienda vostra, per esempio siete autonomi o avete già un lavoro, e qui si parla di contratti con dei collaboratori, potrebbe esserci un cambio a livello proprio di accordi, o proprio un cambio di direzione, per certi versi ho come la sensazione che lascerete indietro un collaboratore o una collaboratrice. Andiamo a vedere ragazzi una zona d'ombra. Su che cosa, diciamo, mettere l'attenzione per migliorare? Volevo anche, aspettate, vi tiro prima una carta di Osho. Guardate, è uscito un 8 di denari, la carta del lavoro. Essere ordinari. Ho proprio la sensazione che sia un modo di dirvi, fate il cambio, avete tutto un mese, fate il cambio un poco alla volta. Ok? Poco per volta. L'essere ordinari è proprio la quotidianità, il fare le cose semplici della vita, tutti i giorni, con amore. Un passo alla volta. Quando si tratta di affrontare i cambi, voi rendetevi conto che le case sono costruite un mattone per volta. Ok, andiamo a vedere un lato d'ombra, che potrebbe esserci in questa situazione, così anche voi sapete su che cosa lavorare per modificare la situazione. Agitazione. Questi li ho fatti io, ovviamente si vede. Agitazione, ragazzi. C'è qualche cosa che vi agita. Cercate di capire... Chiedetevi il perché. Perché mi agito davanti a questa situazione? Quali sono le mie paure? Bene, amici della prima scelta, io spero che la lettura sia stata utile. Fatemi sapere comunque con un commento. Se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. E se volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Bene, io vi ringrazio di essere saltati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao. E benvenuti alle persone che hanno scelto la sodalite. Anche per voi andiamo a vedere le energie disponibili per chi ovviamente sta lavorando per il mese di agosto 2023. Vi ricordo che le letture sono generiche, potete comunque ascoltare una delle altre due letture se non vi risuona nulla, oppure cercare di integrare questa lettura con quelle mensili. Bene. Vi ricordo intanto anche che non ho Whatsapp in questo periodo, quindi per chi avesse già il numero di telefono mi può scrivere un SMS normale, o comunque è sempre valida l'email. Per chi invece mi contattasse per la prima volta, via mail. Comunque nella descrizione del video trovate tutto, ok? Allora ragazzi, partiamo con due assi e sono al contrario. Wow. Partiamo con due assi e sono al contrario. E devo dire che anche le altre sono al contrario. Adesso andiamo a vederle poi meglio con i mini tarocchi, perché è come se ci fosse qualcosa che fa fatica a partire. C'è qualcosa, probabilmente, o che non è in ordine, o che non è sufficientemente programmato. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'asso. 9 di coppe e 4 di bastone. Interessante perché il 4 di bastone è venuto anche alla prima uscita, alla prima lettura. Ragazzi, è come se ci fosse qualcosa che non vi appaga nella prima settimana del mese. Nella prima parte del mese, diciamo così, perché poi il tempo sapete che prendetelo sempre come elastico. Allora ci potrebbe essere... O come la sensazione ci sia un po' di aria stantia, o nel vostro posto di lavoro, o nel tipo di lavoro che state facendo. C'è qualche cosa che non è... Può anche essere magari che non sia un lavoro continuativo, ipotesi. Andiamo a vedere l'asso di spade. Allora, fante di pentacoli e ruota della fortuna, al contrario. Io qui sento, ragazzi, che è una questione personale il fatto di non buttarsi in qualche cosa di più grande. Perché? Perché non vi sentite pronti, perché c'è ancora da studiare. Ed è un po' come se non aveste le cose in testa abbastanza, diciamo, chiare da poter effettuare un cambio. Un cambio non è necessariamente detto che sia un cambio di posto di lavoro, può anche essere un cambio solo di mentalità, un cambio di comportamento all'interno dello stesso posto di lavoro. Adesso dipende poi ognuno dalla situazione lavorativa che ha. Però comunque, ragazzi, è come se ci fosse ancora qualche cosa da riordinare. È come se vi mancasse un pezzo. Perché la cosa diventi stabile. E questo vale sia se siete dipendenti con contratto a termine, sia che siate autonomi. Se siete disoccupati, ragazzi, ecco, probabilmente agosto non è il periodo migliore. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Wow! Dieci di coppa e remita. Perché ho la sensazione che qualcuno non si voglia prendere le proprie responsabilità? Andiamo a vedere il 4D coppe. Allora, ragazzi, per qualcuno potrebbe essere che, diciamo... Non voglio... Fatemi cercare la parola perché poi... Una delle poche alternative possibili sia quella di doversi allontanare magari per un periodo dalla famiglia per riuscire a smuovere l'energia più che tutto. Diciamo che è una di quelle opzioni che a inizio mese non vedete ma la vedrete a fine mese. Però qui c'è qualche cosa legata a una famiglia, eh? A un'unione comunque. Allora, se siete disoccupati ragazzi vi dico, potrebbe essere utile fare qualche corso di aggiornamento piuttosto che qualche corso in più per riuscire ad avere più strumenti per riuscire a cambiare la situazione. Poi, uscite dalla zona di comfort. Perché sia il 9 di coppe che il 4 di coppe sono due carte molto di staticità. Sono due persone lì sedute. Osate, mi viene quasi da dire. Se invece siete occupati, quindi se state lavorando, ho come la sensazione che qualcuno si dica lo faccio per la mia famiglia, questo lavoro magari non mi piace, non mi soddisfa, non c'è stabilità, magari sento che per qualcuno c'è anche qualche questione, sospeso con dei colleghi, però è un po' come dire, no, non importa, lo faccio per la mia famiglia, c'è bisogno e quindi lo posso supportare. E invece per qualcun altro è una questione di spostarsi, bisogna spostarsi, qui abbiamo un 3 di spade e il cavaliere di spade, che mi parlano di una sorta di allontanamento, ok? Per in realtà cercare soluzioni migliori. Comunque non vi preoccupate perché è chiaro che adesso non lo vedete, avete un 4 di coppe. Io sento che sarà più, diciamo così, presente verso la fine del mese questa cosa, però vi renderete conto, o meglio, cercate di capire, visto che state vedendo la lettura, dove avete paura di sentirvi rifiutati dall'altro, dove avete paura di non farcela. Qual è il vostro tallone d'Achille? In modo che appunto possiate studiare, possiate rinforzare quel punto debole per girare questa ruota della fortuna, ragazzi, per far sì che il cambio arrivi. Se siete autonomi, ho come la sensazione che vi dicano di aspettare prima di concludere i contratti, ok? Qui abbiamo 10, 10, qui abbiamo 1 e 1. Però è come se doveste prima affrontare un certo tipo di percorso, un certo tipo di studi, magari fate passare il mese. Andiamo a vedere Osho, che cosa dice? Ancora una carta, avevo chiesto una. Allora, guarigione, perfetto. Guarigione, quindi abbiamo questa figura che ha una mano sulla fronte e una mano sulla pancia e poi c'è questo, diciamo, la zona del cuore dove c'è questo fiore illuminato. Quindi si tratta di guarire la mente e, in questo caso direi il fisico. Però comunque è una carta di maturità, è una carta che vi porta appunto verso la guarigione. Dopodiché abbiamo seguire il flusso, quindi qui vi stanno dicendo lasciatevi anche un po' trasportare da quello che è la vita, da quello che sono gli eventi che vi succedono, ok? Guardate, li metto così. Poi abbiamo maturità, questa è una carta bellissima perché vi dice che siete pronti per fare il salto, siete pronti per andare oltre mare, tra di bastoni. E poi abbiamo possibilità. Wow, carta numero due, un due di bastoni, datevi una possibilità. Andiamo a vedere un'ultima carta. Queste sono carte che ho fatto io e sono per andare, diciamo, a capire qual è la zona d'ombra in modo che possiate lavorarla, che possiate migliorarla. Quel tallone di affille di cui parlavamo prima. Dipendente e gelosia. Wow! Dipendente, può essere dipendente proprio a livello di lavoro, nel senso che siete dipendenti di qualcuno, o c'è qualcuno dipendente da voi. E poi abbiamo gelosia. Di che cosa siete gelosi? Di chi siete gelosi? Perché siete gelosi? Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Questo è quello che avevo, fatemelo sapere con un like, un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, potete anche condividere, lasciare una donazione, oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! E benvenute anche alle persone che hanno scelto il diasporo rosso. Andiamo a vedere quali sono le energie. Per il mese di agosto per chi lavora. Vi ricordo che le letture, ragazzi, sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Queste letture si possono integrare con quelle quindicinali che sono già uscite. Vi ricordo comunque che sono senza WhatsApp in questo periodo, quindi per chi avesse già il numero di telefono mi può contattare via sms, oppure, come sempre, attraverso l'indrizzo e-mail. Se è un primo contatto va benissimo l'indrizzo e-mail. Lo trovate anche nella descrizione del video, così come trovate anche altre informazioni. Bene, andiamo a vedere due di bastoni, tre di pentacoli, appeso e carro. Interessante, ragazzi, perché si sblocca qualcosa. E' qui. Oh sì, nella prima parte del mese c'è qualcosa che cambia, c'è qualcosa che è come se prendesse una decisione inerente a un progetto, inerente a un lavoro, un nuovo cliente, una collaborazione. E qui arriva poi lo sblocco, il movimento. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere due di bastoni. Tre di bastoni, cinque di bastoni, regina di coppe, sette di coppe e quattro di... Ragazzi, quattro di bastoni in questa posizione è uscita tutta tra le letture. Cambi, vedo cambi. Rotture di schemi. Rotture dei contratti. Disillusioni. Quello che prima era indecisione, probabilmente adesso diventa decisione. C'è una sorta di ambiguità, diciamo così, nella prima parte del mese. Molto, ragazzi, lo fa anche lo stato emotivo che avrete, probabilmente di indecisione. C'è un due di bastoni, il due di bastoni è sempre quella carta che dice da un lato voglio guardare in avanti, dall'altro non voglio perdere quello che ho qui. Andiamo a vedere il tre di pentacoli. Regina di spade. E dieci di pentacoli al contrario. Ragazzi, di nuovo, sono due carte di rottura a contratto, eh. Quindi può essere che qui ci sia un cambio, appunto, uno sblocco. C'è anche l'appeso e il girato al contrario. Se state lavorando magari come dipendenti, ci potrebbe essere un cambio di azienda. Se, per esempio, foste già autonomi, no? E c'è una collaborazione già in essere, può essere che questa collaborazione o si rompa, o anche solo si cambi il tipo di contratto, ok? Però, considerato che avete la regina di spade e il dieci di pentacoli al contrario, lo sento molto come un taglio. Ragazzi, mi parlano di mobbing. Quindi per qualcuno potrebbe essere necessario dire basta. Andiamo a vedere l'appeso. Il matto, nuovi inizi, nuove avventure. Otto di pentacoli al contrario, giustizia al contrario. Eh, ragazzi. Nove di spade al contrario, nove di bastoni. Di nuovo, ragazzi, una carta di rottura a contratti. Ed è interessante perché è uscita anche la carta del lavoro qui. Guardate, io ho come la sensazione che qui vi toglierete un bel peso. Se effettivamente ci sono tutti questi problemi con il 5 di bastoni, queste disillusioni al lavoro, dove magari vi permettono cose, poi invece non ve le... non arrivano a compimento, insomma. Vi tengono un po' sospesi, vi tengono appesi, no? Qui è ora di tagliare. Diciamo che all'inizio potreste anche ritrattare, cioè, se siete in una fase di instabilità, o comunque dove non state bene nel lavoro, potreste anche proporre qualche cambio all'interno del contratto, come vi dicevo prima, potrebbe essere qualche taglio di responsabilità, piuttosto che qualche, non lo so, magari cliente in meno, se sono troppi quelli che avete da gestire, insomma, tipo sfoltire un po' i rami dell'albero. Però vi dirò che per altre persone si tratta veramente di uno sblocco, di tagliare il contratto che avete in essere e di partire per nuove avventure. Avete comunque la carta del matto, è una carta di nuovi inizi, nuove avventure. È una carta di viaggi, o come, guardate, qualcuno si prenderà anche un periodo sabbatico proprio per viaggiare. Andiamo a vedere il carro. È come se qui ci fossero gli elementi che fanno maturare questo tipo di scelta. Andiamo a vedere il carro. Giudizio. Wow. E 10 di spade, wow. Ragazzi, io credo che alla fine del mese molte persone avranno una presa di consapevolezza e decideranno che un ciclo è finito. Basta con la sofferenza, basta con i litigi, basta con le illusioni o disillusioni, con le insicurezze, e ora che andiate per la vostra strada, ed è quello che vedo con la carta del carro qua, a fine mese, no? C'è anche poi la carta del giudizio. Allora, la carta del giudizio non mi mette a fare riferimento alla chiamata di tipo spirituale, però può anche essere la chiamata di qualcuno. In questo caso sento più che la chiamata del vostro sé che bussa e dice, senti, così non va bene, bisogna cambiare qualcosa. Prendi delle scelte, fai delle scelte, dai una direzione alla tua vita. Prendi in mano le redini della tua vita, letteralmente. E qui si chiude un ciclo. Wow, bellissima lettura, amici del diasporo rosso. Andiamo a vedere ancora Osho che cosa ci dice. Se siete disoccupati, ragazzi, ho come l'idea che vi dicano di muovervi di più, a livello di zona proprio, e allora potrebbe essere un suggerimento diciamo il mondo dei bambini per trovare, perché con il carro è un po' come se vi dicessero anche allargate il raggio d'azione. Cioè se voi avete sempre fatto, lo so, i panettieri, non è che dobbiate continuare a fare quello per tutta la vita. Sì, quello, magari quello che sapete fare, avete una grossa esperienza, ma potete anche fare altro, si può imparare altro. È un po' come se vi dicessero allargate il raggio d'azione. Allora, qui abbiamo integrazione della carta della temperanza, yin e yang, ed è parlano proprio di rimettere in equilibrio quello che vuole la mente, quindi quello che per raziocinio uno si senta un po' obbligato a fare, e quello che in realtà vuole il cuore. Cioè, il cuore è la nostra anima, no? Quanto sta male il cuore. Poi abbiamo consapevolezza, anche questa è una bellissima carta, ragazzi, si tratta di, guardate, al terzo occhio acceso, si tratta di vedere le cose da un punto di vista più ampio, diciamo così. e poi abbiamo, wow, volgersi all'interno. Vedete che in questa figura ci sono un sacco di facce divisi che rappresentano gli avi o comunque le persone, le vocine dentro la nostra testa, ok? E questa carta vi invita a volgervi all'interno, appunto, ad ascoltare il vostro cuore, piuttosto che le voci della mente. Bene, andiamo ancora a vedere una zona d'ombra che potreste lavorare. Questo mazzo è mio, l'ho fatto io, quindi è solo per darvi degli spunti su quale potrebbe essere il punto debole della situazione. Ipocrisia, wow! Ragazzi, spero che vi sia d'aiuto. Questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere insomma se la lettura vi è servita con un like, con un'iscrizione, con un commento. Se avete piacere potete anche condividere il video, fare una donazione oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!